La Toscana vuole essere più presente in Europa. Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale e membro del Comitato europeo delle regioni, nei giorni scorsi è stato a Bruxelles per partecipare come delegato della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome alla 155esima sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni. Mazzeo, tra le altre cose, si è soffermato anche sulle iniziative da mettere in atto quando, come in questo periodo, ci sono emergenze legate alla grave situazione del maltempo. Noi oggi siamo qui insieme a tutti i presidenti delle province, insieme al nostro Parlamento degli studenti, perché vogliamo mandare un messaggio forte e chiaro. La Toscana vuole esserci di più in Europa, lo vuole fare tutti insieme. In Europa passa le possibilità di crescita della nostra regione, i fondi strutturali, il piano nazionale di ripresa e resilienza, la necessità di fare progetti che non diano solo risposte nel breve, ma guardino al futuro. E questa è la sfida che noi abbiamo davanti. Come sapete, qualche giorno fa l'Emilia Romagna, la Toscana, sono state toccate, soprattutto l'Emilia Romagna, ma anche il Mugello, la parte alta della Toscana, da questa violenza inaudita, una violenza inaudita che è frutto dei cambiamenti climatici. Allora siamo qui anche per continuare le iniziative che portiamo avanti, perché la nostra regione sia una delle regioni più avanzate da questo punto di vista. Certo, ora siamo nell'emergenza e speriamo ci possano essere le condizioni, perché la parte del piano nazionale di ripresa e resilienza, che non viene utilizzata, perché i progetti non possono essere dedicati, possono essere realizzati, possano essere messi a disposizione per un grande piano contro il dissesto idrogeologico. Questa è una battaglia che dobbiamo fare tutti insieme e questo è per l'emergenza. E poi per il futuro ci immaginiamo che ci possa essere un grande piano di prevenzione a livello europeo, perché è un tema che non riguarda solo noi, ma riguarda tutti gli altri paesi. In visita presso le istituzioni europee, anche l'Unione delle province della Toscana, rappresentata dai presidenti delle province di Lucca, Massacarare e Pisa e una delegazione del Parlamento degli studenti della Toscana. Le ragioni della nostra visita sono proprio fare ponte, fare da ponte, fare da coesione fra quelle che sono le tematiche affrontate ogni giorno con duro lavoro nella comunità europea per portarle ai nostri ragazzi in Toscana e quindi di conseguenza proprio di fungere da collegamento fra queste due realtà che alla fine sono in realtà molto strette fra loro. Nell'auditorium del Consiglio regionale ha avuto luogo un incontro tra 84 studenti delle classi terze dell'Istituto di Istruzione Superiore Benedetto Varchi di Montevarchi, vincitori di un progetto nell'ambito del bando Erasmus Plus e la Commissione Europa, preseduta da Francesco Gazzetti. Otto classi terze del Varchi si sono infatti aggiudicate il finanziamento da 30.000 euro offerto dalle azioni Jean Monnet per stimolare l'insegnamento e la ricerca sull'Unione Europea. Il progetto, a cui gli studenti hanno dato il nome di Min & EU, li accompagnerà nell'arco del triennio fino alla classe quinta del 2024-2025. L'Europa come grande opportunità, questo è il messaggio forte arrivato alla fine dell'incontro. E' con grande soddisfazione che abbiamo aperto anche questa nuova fase di lavoro della Commissione Europa, anche qui con un lavoro condiviso, un lavoro che tiene di conto anche delle energie e soprattutto delle idee che nascono agganciate all'Europa sul territorio della nostra regione. Quindi davvero un'iniziativa da ripetere e un'iniziativa dalla quale abbiamo soprattutto noi imparato molto e credo che questo sia un elemento positivo da appunto replicare e far crescere ancora di più. In questa prima fase del progetto, gli studenti, sostenuti dalla cooperativa sociale Campo Base, che ha messo a loro disposizione un esperto di metodologia esperienziale, si sono focalizzati su quello che l'Europa può offrire ai giovani in tema di studio e lavoro. Sono stati prodotti video e presentazioni focalizzate su quattro ambiti, Interrail, Erasmus Plus, Corpo Europeo di Solidarietà e Università all'estero. È stato molto bello ricevere i primi 80 studenti del Liceo Benedetto Varchi di Montevarchi che incontrano il Consiglio regionale, le commissioni regionali, in particolare la Commissione Europa e la Commissione Istruzione e Cultura. stanno facendo un bellissimo progetto triennale di approfondimento e conoscenza della dimensione della cittadinanza europea, del loro essere europei. Oggi li abbiamo ascoltati, ci hanno fatto vedere i primi risultati del loro lavoro, video molto ben costruiti, autoironici, intelligenti, ed è stato bello dialogare con loro e essere a loro disposizione. Credo che una politica più vicina alle esigenze dei cittadini, più consapevole di che cosa vuol dire abitare le istituzioni scolastiche, anche da studenti, oggi possa essere più utile anche alle decisioni pubbliche e agli indirizzi politici che noi dobbiamo determinare ogni giorno. Ed è stato molto bello raccogliere anche le loro suggestioni, come dare loro una dimensione della politica che forse non conoscono, non immaginano e che può far venire voglia anche a loro di condividere l'impegno nelle istituzioni. Erano anche molto belli e simpatici, quindi una bellissima mattinata che ripeteremo poi con altri 80 ragazzi del medesimo percorso. Sì, è importante questa mattina, ma soprattutto è importante il lavoro che stanno svolgendo i nostri giovani all'interno del percorso di studi che si compie appunto nell'Istituto di Montevarchi. È importante che i ragazzi si avvicinano alle istituzioni, in questo caso c'è una bella unione, perché c'è un'unione fra l'istituzione della regione toscana e l'istituzione europea. Io invito a approfondire questo argomento perché l'Europa forse noi non la conosciamo così bene, in questo momento i giovani stanno studiando proprio per avvicinarsi alla comunità europea e capire quello che succede e quelli che sono i meccanismi. Noi come Commissione siamo andati a Bruxelles, abbiamo capito tanto di più e diamo sicuramente un senso maggiore al ruolo che svolgiamo all'interno della Commissione, quindi il lavoro che stanno facendo i nostri giovani e il supporto che forse potranno anche darci con questo percorso di studi sarà per noi fondamentale, ecco perché oggi siamo ad ascoltare il lavoro che stanno svolgendo. Molto importante questo incontro tra i giovani della Scuola di Montevarchi e la Commissione Europa. Questa è la generazione dell'Erasmus, la generazione di ragazzi che hanno bisogno di dimensioni amplie, quindi sentirsi europei, ricercare un rapporto per capire quali sono le opportunità che l'Europa offre ma anche come si può essere dei giovani cittadini europei del futuro credo che sia molto importante, sia molto in linea con il lavoro che sta facendo la Commissione Europa che abbiamo fortemente voluto nell'ambito di questa legislatura. In bocca al lupo a questi giovani europei, l'Europa è sicuramente un'opportunità, è la nostra dimensione alla quale dobbiamo guardare con speranza e con fiducia ovviamente rafforzando e coltivando quello che è uno spirito certo di italiani ma nell'ambito dell'Europa. Il progetto viene proposto nell'ultimo triennio della scuola e si articola in tre fasi. Nella prima i ragazzi si sono focalizzati su che cosa l'Europa propone ai giovani, nel secondo anno invece si concentreranno sulle istituzioni europee e sul loro funzionamento. Si articola in tre fasi. La prima fase i ragazzi si sono focalizzati su che cosa in pratica l'Europa propone ai giovani quali sono le offerte che l'Europa dà ai giovani. Nel secondo anno invece gli studenti si focalizzeranno sulle istituzioni europee, quindi il loro funzionamento, quali sono. L'ultimo anno quando i ragazzi ormai sono più grandi e si avvicinano anche all'esame di Stato che è chiamato anche esame di maturità ci sembrava opportuno che loro riflettessero su che cosa invece loro come studenti, come giovani possono dare all'Europa consapevoli del fatto che non ci sono solo diritti ma ci sono anche doveri. Avrei voluto urlare Così si intitola il libro di Pietrina Oggianu un titolo che è anche il grido di tanti pazienti che l'autrice ha voluto far sentire con tutta la forza possibile affidando il racconto della fibromialgia una malattia invisibile alla protagonista Pitti. La presentazione del volume dell'edizione del Faro ha avuto luogo nella sala Fanfani di Palazzo del Pegaso. Un romanzo verità in cui Pietrina Oggianu ha dato voce a tutti quelli che soffrono di sindrome da dolore cronico diffuso raccontando la sua esperienza. Perché è la voce praticamente di tanti fibromialgici siamo circa due milioni e più e quindi avrei voluto urlare proprio un urlo diciamo di richiesta proprio per far riconoscere questa patologia che è appunto la fibromialgia che ancora oggi non è riconosciuta come ben sapete e non risulta nei LEA quindi ho voluto comunque dare voce appunto a tutti coloro che soffrono di sindrome da dolore cronico diffuso che è appunto la malattia. Ma c'è la mia storia innanzitutto ovviamente perché io penso che per poter raccontare agli altri bisogna prima raccontarsi per cui chiaramente ho voluto raccontare quello che è la mia esperienza vissuta sulla mia pelle e quindi la malattia quello che comporta essere malati da sindrome da dolore cronico diffuso quello che significa vivere con la fibromialgia una malattia appunto non riconosciuta che chiaramente ti porta anche ad avere un impatto molto forte a livello sociale perché spesso veniamo appunto emarginati veniamo etichettati non veniamo compresi questo sia nell'ambito lavorativo ma anche proprio nell'ambito sociale di tutti i giorni quindi nel quotidiano ecco quindi questo è La fibromialgia è una patologia nei confronti della quale la Toscana ha fatto tanto come ha spiegato il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Enrico Sostegni Sì assolutamente è una patologia sulla quale la Toscana ha fatto tanto negli scorsi anni abbiamo riconosciuto un percorso diagnostico-terapeutico stiamo cercando di implementarlo ormai in tutte le aziende sanitarie c'è un percorso un centro di riferimento per la fibromialgia però e questo è il tema della giornata di oggi spesso la fibromialgia è difficilmente diagnosticabile ma soprattutto è difficilmente creduta perché è una forma che genera un dolore diffuso e ovviamente poi sul posto di lavoro nei rapporti con i familiari spesso chi è affetto da questa patologia oltre a soffrire deve farsi carico anche del fatto di non essere assolutamente riconosciuto nella propria sofferenza e il libro di oggi è una bella testimonianza importante testimonianza sulla vita di una paziente fibromialgica e quindi è un modo per rendersi conto che cosa vuol dire essere affetti davvero a fibromialgia Laura Rimi, componente della commissione regionale pari opportunità ha sottolineato come il tema del libro sia l'attenzione della commissione mi trovo qui a presentare ho ricevuto molto volentieri l'invito ed ho accettato veramente con piacere la presentazione di un libro che parla di un tema molto importante che è quello della fibromialgia che come commissione regionale pari opportunità è sotto i nostri occhi come tanti altri argomenti perché purtroppo è una di quelle malattie che colpisce molto le donne e che fanno in modo che abbiano una vita ancora più difficile e difficoltosa soprattutto per quanto riguarda il lavoro sappiamo che le donne hanno una situazione lavorativa sia come quantità ma come qualità anche peggiore di quella degli uomini e avere un fardello come quella della fibromialgia purtroppo comporta anche tante problematiche non solo nella gestione familiare ma anche proprio nel mondo lavorativo e quindi siccome noi ci occupiamo di donne e di ascoltarle e di cercare di portare alla ribalta le tematiche che ci attengono noi come commissione siamo molto partecipi di questo argomento come di tanti altri che ci attengono